We will, we will rock you! We will, we will rock you! Lei se vuole una posizione noi prendiamo, altrimenti la trasformiamo! Da dove viene? Dalla provincia di Piacenza? Oh, allora un caro saluto d'arteare di Castellarquato. Ci siamo anche noi. A presto! E' la prima parte della strada, che da l'olpore e lecce ti volterà! La 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 E la sua propria cadaglia, il saluto ti dà. Vieni fratello e questa la gente, che va almeno di niente, perché niente non ha. Ma se il destino rovescia il suo gioco, nascerà nel mattino una freccia di fuoco e la libertà. Araloosez, lauset, lauset, lausot, è il domando mezzamal. Araloosez, lauset, lausot, è il domando mezzamal. Grazie. Grazie, questo era Araloosez. La 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 fleccia nera, fischianto, si scaglia, è la sua cacataglia, che il saluto ti dà. Vieni fratello, è questa la gente, e va meno di niente, perché niente non ha, ma se il destino rovescia il suo gioco, nascerà nel mattino con la freccia di fuoco, la libertà. Ma se il destino rovescia il suo gioco, nascerà nel mattino con la freccia di fuoco, la libertà. La libertà. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.